Eccoci ritrovati in un nuovo appuntamento, sì perché a quanto pare le mie recensioni vi piacciono ma quando vado a darvi le mie prime impressioni sui nuovi albi che acquisto in edicola senza conoscerne effettivamente il contenuto e parlando avanvera vedo che questi video fanno ancora più visualizzazioni e per voi sono ancora più interessanti quindi anche oggi vi dirò botta calda cosa ne penso di questo nuovo Dylan Dog albo speciale numero 32 sapete che da qualche tempo a questa parte gli albi speciali contengono le storie tratte dalla saga del pianeta dei morti ecco una saga che era originariamente apparsa nel Dylan Dog albo gigante una saga di bilotta che mi ha da sempre e da subito convinto e sto continuando andando, mi sto ingarbugliando con la lingua e sto andando avanti a collezionare appunto tutti questi volumi e di questa che è effettivamente al momento l'unica serie di Dylan Dog sì c'è anche la serie regolare con tutte le nuove vicende di John Ghost, Rani eccetera però questa serie qua mi piace un pochino di più ambientata in un universo parallelo dove un misterioso contagio ha reso tutti degli zombie e Grauch è stato il primo ad essere contagiato e a diventare uno zombie Dylan non è riuscito ad ammazzare il suo miglior amico per questo Grauch è andato in giro a contagiare tutti è venuto a fare un disastro la trama non è solo questa ci sono tantissime altre mamma mia oggi non so parlare tantissime altre sottotrame ecco ce l'ho fatta colpa anche della mia rimoscia che mi fa ingarbugliare in questa parlantina qua sempre più nesta e vi dicevo qual è il problema? perché mi è venuto in mente di fare questo video? perché a quanto pare ora questi speciali come da sempre, come da tradizione sono a cadenza annuale il fatto è che a distanza di un anno io non mi ricordo più niente dell'episodio precedente sì, ci sembra un piccolo riassunto da parte di Belotta anzi, vediamo in diretta se c'è anche questa volta un riassunto spero di sì sto sbirciando giusto le primissime tavole e non mi sembra di vedere nessuna didascalia o nessun tagliandino molto male vabbè ve lo dirò più approfonditamente in fase di recensione di solito c'è sempre all'inizio un breve riassunto delle puntate precedenti qua non lo vedo non ecco troppo voglia di andare a vedere i miei vecchi video non ho neanche voglia di andare a ripescare gli altri albi speciali e leggermi le ultime tavole insomma un po' che palle volevo riassunto non c'è fatto sta che appunto a distanza di un anno secondo me una serie del genere che contiene poi oltretutto anche 160 pagine non è il massimo della vita bisognerebbe proporla a cadenza eventualmente semestrale non si può farla mensile non si può farla bimestrale quadrimestrale no facciamola semestrale però annuale veramente un intervallo un pochino troppo lungo dal mio punto di vista perciò leggerò comunque questa storia questo seguito però a dir la verità quasi non mi ricordo neanche più di che cosa parla cosa ne pensate voi la pensate come me la pensate diversamente fatemelo sapere qua sotto nei commenti così come al solito ci scambiamo le opinioni e andiamo ad espandere questa community dedicata al mondo di Dylan Dog ci sono i disegni di Casertano che ve li faccio vedere un po' al volo si si capisce che che il taglio è il suo ma non dico che sembrano fatti un po' di fretta perché non è vero sono fatti comunque abbastanza bene ma mi sembrano un pochino più com'è che posso dire non meno curati del solito ma più o meno qualcosa del genere insomma è d'altronde 160 tavole non si può pretendere che in ogni vignetta ci sia il dettaglio più assoluto sono un po' sbilenchi certe volte Dylan qua c'è proprio a vederlo a primo impatto a botta calda un po' mosci i personaggi un po' molleggianti un po' tipo invertebrati non so mi dà un senso strano come delle macchie un po' tutte come lo schifidol ce l'avete presente? quella cosa lì adesso no non sto delirando aspettate che vi spiego il mio ragionamento lo schifidol quella cosa lì che ci giocavo da bambino tutta blablabla ecco sembra che le facce siano un po' un po' così mi dà quel senso lì un po' come dei disegni sott'acqua un po' strano non lo so insomma riconosco il tratto di di quest'artista ma anche qua vedete questa faccia qua di Dylan è un po' un po' strana non so io ci vedo qualcosa di strano avrò problemi io quindi boh basta non ho nient'altro da dirvi e queste erano le mie prime impressioni vediamo come andrà avanti questa saga allora i primi numeri mi avevano preso tantissimo specialmente quando usciva ancora negli albi giganti poi quando si era trasferita sul Colorfest mi stava piacendo forse ancora un pochino di più a quanto mi ricordo sì perché comunque il Colorfest racchiudeva anche dei disegni spettacolari una colorazione micidiale e insomma mi piaceva quando questa sera quando era stata trasportata sul Colorfest mi continuava insomma dai oggi non so parlare continuava a piacermi invece da quando è stata trasferita sullo speciale sì primi albi speciali va bene poteva ancora tirare avanti ma adesso tirare avanti all'infinito quanti numeri faranno ancora cioè veramente ho perso il conto boh forse scopriremo la fine di questa avventura inedita di Dilan Dog nel 2030 quando io avrò non so più di 30 anni e non lo so boh speriamo che prima o poi abbia una fine questa saga perché secondo me si sta tirando avanti veramente troppo noi ci vediamo nel prossimo video dedicato al mondo dell'indagatore dell'incubo